Allora, cari amici, come vi ho detto, ieri mi sono fatto una bella lettura degli atti che il Presidente del Consiglio Conte ha detto di aver desecretato. Già vi ho detto che si tratta di cose assolutamente inutili, delle quali tutti quanti eravamo a conoscenza. Adesso vi dico qualcosa di più che è ancora più importante. Quello che è stato oggetto di desecretazione riguarda, come avete tutti quanti potuto sapere, solo e soltanto il periodo intercorrente tra i primi di marzo e i tempi successivi, cioè dal momento in cui è stato imposto il lockdown che è stato poi revocato il 12 maggio. Tutti i morti che si sono verificati nel periodo del lockdown, ricordate, siamo arrivati fino a mille morti, ricordate come si moriva, si moriva dentro alle ambulanze che sostavano davanti agli ospedali perché non c'era posto, si moriva nelle abitazioni dove ti dicevano che ti venivano a prendere con l'ambulanza e poi non arrivavano, si moriva nell'RSA dove si sterminava una generazione di anziani, si moriva negli ospedali perché si sbagliavano le cure, si moriva nei modi più efferati possibile e quelle casse da morto che abbiamo visto sui camion dell'esercito stanno sempre davanti a noi a dimostrarci quello che abbiamo passato. Bene, tutti questi morti sono la conseguenza del contagio che si è verificato e che è stato moltiplicato fino all'eccesso non dal 9 marzo in poi ma in tutto il mese di febbraio, questo nessuno ve lo dice. La stampa fa finta di non sapere, la stampa non avverte i cittadini, arrivano le carte sul periodo successivo al 9 marzo e tutti pensano che si tratti del periodo più importante relativamente ai decessi che si sono verificati, no, le cose stanno diversamente, le causali della morte sono tutte da ricondurre al mese di febbraio del 2020, quello è stato il mese nel quale il contagio ha avuto il massimo dello sviluppo, tanto che poi si è giunti appunto a mettere il lockdown il 9 di marzo, quello è stato il periodo in cui le persone che si ammalavano non si potevano curarli in alcun modo e si facevano quelle intubazioni con le quali si distruggevano i polmoni e la gente moriva attaccata ai letti degli ospedali, quello è stato il periodo perché quello è il problema centrale di questa vicenda, il problema centrale di questa vicenda è che in quel mese dopo il 31 di gennaio quando fu dichiarata lo stato di emergenza per motivi sanitari, quello era il momento in cui bisognava chiudere, perché quello era il momento in cui si stava sviluppando il contagio, quello è stato il momento in cui il contagio si è sviluppato, quello è stato il mese in cui i morti per il contagio che si è sviluppato sono diventati prima 5, poi 10, poi 15, poi 20, poi 25 mila e poi 30 mila, è inutile stare a discutere dal 9 marzo in poi, perché dal 9 marzo in poi le cose sono andate ovviamente dal punto di vista del contagio sempre meglio, ma i morti aumentavano perché erano tutti i morti di febbraio, questa è la situazione concreta con la quale ci dobbiamo confrontare e sono veramente indignato perché c'è una stampa serva, schiava del potere politico, c'è un potere politico che non ha il coraggio di parlare, c'è un potere politico che ci prende in giro come addirittura propinandoci in maniera surrettizia documenti che non servono assolutamente a niente, pensando di aver citato tutte le informazioni possibili e immaginabili, invece ci stanno con la pubblicizzazione di questi documenti, stanno coprendo i documenti, quelli veri, quelli del febbraio del 2020. Io voglio sapere e vorrò sempre sapere e combatterò perché si possa sapere, voglio sapere quello che è accaduto in quel periodo nei rapporti tra i consulenti tecnici del Ministero e gli uomini politici. E poi un'altra cosa voglio sapere con precisione, sulla quale nessuno parla, e cioè che cosa ha fatto l'Istituto Superiore di Sanità in quel periodo? L'Istituto Superiore di Sanità è l'unico organo pubblico del quale a rigore il governo dovrebbe sentire i pareri, poi ci stanno tutti questi buffoncelli che circolano per le televisioni e per le radio, ciascuno dicendo una cosa diversa da quella che dice un altro, ma dal punto di vista istituzionale è l'Istituto Superiore di Sanità che deve dire come stanno le cose. Voglio sapere, rispetto a quello che stava accadendo, perché il 31 gennaio si è dichiarata lo stato di emergenza, quindi lo stato di emergenza si dichiara perché c'è una situazione di grave pericolo, di fronte a questa situazione chi ha detto al governo di non fare niente? L'Istituto Superiore di Sanità ha detto di non fare niente, se l'ha detto ha commesso un gravissimo errore del quale deve rispondere, se non l'avesse detto, avesse detto che si doveva chiudere immediatamente e Conte non dovesse aver seguito, allora le responsabilità sono assolutamente pacifiche. Mi rivolgo alla magistratura della quale non abbiamo più nessuna fiducia, ma ancora abbiamo la necessità di fare riferimento ad una istituzione, abbia un sussulto di orgoglio questa magistratura, prenda in mano la situazione perché queste buffonate devono finire. Se vuole riabilitarsi questa magistratura, di almeno risposta alle famiglie di 35-40 mila morti con i quali ci siamo dovuti confrontare dopo quello che è successo dal 31 gennaio in poi. Io combatterò per questo ideale, tutti mi attaccano, non ha importanza, attaccatemi, intimiditemi, minacciatemi, ma questa è la verità. Mi auguro che qualcuno prenda in considerazione questo mio appello perché veramente sono esacerbato per quello che sta accadendo. Vi ringrazio e scusate se ancora una volta sono intervenuto nella vostra giornata.